Come vi chiamate? Ciao! Miriam Michela Quanti anni avete? 26 26 La cosa che vi spaventa di più? Io sono Mai, sono E c'è... Io parecchio Miriam, ma devi dargli una mano, scusami Una, una, raccontascene una Quella più, quella che è la cosa che ti spaventa di più Stare accendendo l'attenzione Stare accendendo... Ah, quindi adesso sarei felicissima, quindi in questo momento E... Vi sta piacendo questo viaggio? Sì, è piacissimo Io pian piano Ti stai abituando, dici Giustamente, cioè Non è che Ok, non è che Grazie a tutti